le persone che si collegano e che si collegheranno, salutiamo tutte le persone che si collegano e tutte le persone che si collegheranno e cerchiamo di capire cosa fare dopo l'approccio perché molti uomini diciamo magari riescono ad approcciare una donna però poi successivamente hanno dei problemi, cioè non sanno più cosa fare, non sanno più come andare avanti e questo li rende un po' bloccati da questo punto di vista e quindi è importante diciamo capire cosa fare e come muoversi dopo aver approcciato una donna, salutiamo Rosi e insomma salutiamo un po' tutte le persone che si collegano e che si collegheranno. Allora è molto importante capire diciamo come, cosa fare una volta che hai approcciato una donna l'approccio è sicuramente un punto fondamentale perché ovviamente richiede diciamo la capacità di gestire delle situazioni quindi abbiamo visto diversi livelli d'approccio ma una volta che è stata approcciata una donna una volta che hai approcciato una donna devi fare altro, devi fare altro. Nel frattempo ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video ti ricordo, vi ricordo di seguirmi su tutti i canali YouTube e di fare l'abbonamento al canale perché se farete l'abbonamento al canale potrete usufruire dei vantaggi degli abbonamenti quindi abbonatevi ai canali per usufruire dei grandi vantaggi degli abbonamenti. Allora hai approcciato una donna e adesso che devi fare? perché questo è il punto fondamentale, no? Non puoi, una volta che hai approcciato una donna non è che puoi fare la figura del pesce lesso cioè qualcosa devi per forza fare perché altrimenti... Quindi ci sono, salutiamo anche Pippoli, il nostro Pippoli ci sono altre fasi, altre cose che tu puoi fare una volta che hai approcciato una donna. La seconda fase, diciamo, dopo aver approcciato una donna l'approccio deve essere creativo e divertente devi imparare a creare attrazione creare attrazione è un altro punto molto importante che devi imparare a portare avanti la creazione di attrazione è quindi un punto fondamentale Creare attrazione cosa vuol dire? Far sì che quella donna una volta che è arrivata perché quando si conclude la fase... quando si conclude la fase di approccio quando lei ti dice ciao mi chiamo Francesca, ciao mi chiamo Michela, salutiamo Sissi ciao mi chiamo Sissi, ciao mi chiamo Pippi insomma, e quindi in quella fase lì si conclude si conclude si conclude la fase di attrazione la fase di, diciamo, di approccio e questo uno ci può anche riuscire utilizzando le strategie di approccio che ho spiegato negli altri video successivamente, successivamente però devi creare attrazione devi creare attrazione la creazione di attrazione è un processo complesso che richiede vari aspetti della comunicazione dalla, diciamo, dall'interazione e anche della connessione emotiva tra le persone allora ci sono diversi modi diverse strategie che tu puoi utilizzare per creare attrazione la prima è la comunicazione non verbale la comunicazione non verbale svolge un ruolo fondamentale nella creazione di attrazione quindi abbiamo l'eye contact il contatto visivo il contatto visivo devi utilizzarlo ovviamente devi utilizzare una postura aperta e un buon body language è un buon body language che è un altro punto fondamentale il body language il linguaggio del corpo è fondamentale devi imparare a creare confidenza fondamentalmente il primo motivo il primo modo per creare confidenza con una donna essere sicuro di te stesso essere sicuro di te stesso perché se tu interagisci con questa donna con sicurezza facendo magari del domanda aperte guardandola negli occhi e dicendo magari delle frasi che la spingono a parlare tipo parlami di te dimmi qualcosa della tua vita raccontami una cosa bella una cosa brutta insomma fare qualche domanda aperta è molto importante ma d'altra parte è anche molto importante utilizzare l'umorismo l'umorismo è un altro potente strumento di attrazione se tu sai usare l'umorismo la capacità di farla ridere la capacità di condividere battute la capacità di essere leggeri può essere fondamentale per creare un'atmosfera positiva questo è fondamentale creare un'atmosfera positiva perché devi creare un'atmosfera in cui lei si sente comunque a suo agio quindi ci sono delle battute delle cose che tu puoi dire delle cose che tu puoi fare ma devi farlo semplicemente diciamo cercando di capire che cosa vuole davvero da te quella particolare donna come dicevo la fiducia in te stesso è fondamentale perché quando si tratta di sedurre una donna la fiducia in se stessa è fondamentale quando si tratta di attrarre una donna la sfiducia in se stessi è basilare non molti uomini credono che le donne cercano uomini ricchi cercano uomini di successo questo è anche vero fondamentalmente per certi livelli ma finita la fase d'approccio quello che una donna guarda è quanto un uomo è sicuro e più un uomo è sicuro di se stesso più la donna si sentirà attratta fondamentalmente la maggior parte delle donne cerca un uomo che sappia diciamo essere sicuro perché questa è una delle qualità la sicurezza in se stessi è una delle qualità che serve per apparire come maschio alfa quindi per sedurre attrarre una donna è fondamentale quando parliamo di fiducia in se stessi parliamo ovviamente di body language parliamo di linguaggio del corpo parliamo di persone che sanno valorizzare i punti di forza una persona che ha fiducia in se stesso un uomo che ha fiducia in se stesso apparirà come sciolto nei movimenti con un buon eye contact un uomo che si sente stabile si sente appagato si sente valorizzato sono tutte cose fondamentali per sedurre una donna devi essere in grado di capire esattamente che cosa vuole ma anche che cosa vuoi tu quindi non devi apparire un MDF perché se tu appai un MDF uno che insomma cerca una donna basta che sia una donna beh sicuramente non sarà un uomo seduttivo non sarà un uomo seducente questo è un punto fondamentale ti suggerisco di provare ad avvicinarti quindi l'avvicinamento mentre le parli mentre le guardi negli occhi è un punto fondamentale se tu riesci a diciamo se tu riesci ad avvicinarti soprattutto lateralmente a ridurre drasticamente la prossemica genererai delle piccole microtensioni e queste microtensioni andranno a produrre delle emozioni andranno a produrre delle emozioni in questa persona ovviamente ti suggerisco anche di usare il contatto fisico ma il contatto fisico soprattutto con te stesso quindi quando parli tendi a portarti una mano sul cuore tendi a portarti perché noi abbiamo tre punti fondamentali che sono la testa, il cuore e i genitali fondamentalmente quindi ovviamente se tu inizi a muoverti a gesticolare portando la mano sul cuore farai vedere che sei un uomo che è un uomo di sentimenti un uomo che ama i sentimenti un uomo che è un uomo sentimentale e questo alle donne piace molto se vai nella zona più bassa tipo diciamo vicino all'inguine analogicamente manderai dei segnali diversi fondamentalmente quindi questo è un punto molto importante è un punto fondamentale ovviamente devi imparare a fare tutto questo con naturalezza quindi non essere impacciato nei movimenti è importante tra l'altro la fiducia in se stessi serve sicuramente nell'approccio ma non è importante soltanto nell'approccio è anche molto importante quando conosce una donna perché alle donne piace quando un uomo diciamo non ha paura di fare qualche battuta anche un po' irriverente potrebbe anche fare qualche battuta un po' irriverente questo tipo di comportamento diciamo la farà sentire come dire tra virgolette non dico sottomessa ma un pochettino diciamo come dire dipendente no? da quest'uomo che è un uomo che ha un come dire che ha grandi capacità di ha grandi capacità di conquistare quindi questo è una delle capacità il grande seduttore è un è un seduttore che sa che sa fare innamorare che sa sedurre una persona quindi lo sguardo deve essere uno sguardo intenso uno sguardo diretto un uomo deve avere anche le mani curate le mani curate sono fondamentali generano attrazioni in una donna le donne guardano le mani quindi non puoi avere delle mani da catramista con le unghie sporche quindi lo sguardo deve essere intenso e diretto le mani devono essere curate i denti anche è molto importante sempre per generare attrazione che tu hai i denti a posto se hai i denti marci non non attiri una donna perché sono delle cose che vengono come possiamo dire giudicate molto importanti nella seduzione mani denti le dita curate e e anche le labbra le labbra devono essere diciamo non devi avere i labbroni diciamo le donne sono piattrate da uomini con labbra un po' più sottili visto che i labbroni grossi sono più femminili mentre le labbra sottili quindi non salutiamo i crezi robbi non non diciamo non farti venire i labbroni grossi i denti come dicevo devono essere bianchi devono essere a posto non devono essere marci e e poi devi dire poche parole non devi essere uno logoroico ecco essere logoroici non attrae per niente le donne poche parole ma devono essere parole precise devi avere eleganza nei modi quindi muoverti in modo elegante questo è un punto fondamentale anche la voce è importante anche se hai una voce che ti caratterizza in qualche modo io ad esempio ho impiegato dieci anni per imparare la R Mosha per allenarmi con la R Mosha per adesso a parte gli scherzi però la voce è molto importante devi dare un segnale anche attraverso la voce che che hai una voce diciamo che abbia come possiamo dire che abbia un tono di voce intrigante interessante un po' misterioso non devi parlare troppo tutto questo ti farà apparire intrigante e poi devi essere un uomo che sa tenere le redini cioè deve percepirti lei deve percepirsi come una puledra e tu come il domatore che sa tenere le redini questo è un punto fondamentale e quando dici delle cose devi avere devi usare pochi preamboli non devi fare tanti giri di parole cercare essere insicuro pochi preamboli perché devi andare dritto al bersaglio e questo farà sì che questa donna diciamo diventi attratta si senta completamente attratta da te si senta fortemente attratta da te sono tutte modalità comunicative che sono molto importanti ecco questo abbinato diciamo all'umorismo abbinato al mistero e alla sfida perché un certo grado di mistero e di sfida può aumentare l'attrazione mantenere un po' di segretezza quando tu parli della tua vita è fondamentale essere un po' imprevedibili può suscitare ad esempio il desiderio può suscitare ad esempio il desiderio di far come possiamo dire può suscitare il desiderio a una donna di essere più come possiamo dire più intrigata da te può generare curiosità questo è un punto fondamentale ecco fatta questa parte diciamo avendo generato attrazione lo noterai perché lei capirai che lei si sente attratta da te quando emetterà i primi segnali di gradimento ad esempio si scoprirà il collo ecco questi segnali oppure si toccherà le labbra si mordichierà le labbra si umetterà le labbra ti farà vedere scoprirà i polsi utilizzerà anche una postura un po' civettuola e quindi questo è un punto è un punto fondamentale ho ascoltato il brano no non so che brano dici questo è un punto questo è un punto fondamentale no anche la doccia vabbè quindi anche la doccia certo devi essere pulito devi avere un buon alito un buon profumo se hai l'alito come quello di una fogna di Calcutta come diceva Fantozzi difficilmente attraerai le donne anzi le distruggerai fondamentalmente perché se metti se mangi troppo aglio poi dopo distruggi praticamente distruggi praticamente le donne una volta che hai creato attrazione e lo scoprirai perché lei emette dei segnali di gradimento potrai diciamo creare l'altra fase che è la fase che è la fase di comfort grande crazy robbie è la fase di comfort la fase di comfort è trovare aree di compatibilità aree simili quindi cerca di capire quali sono i suoi interessi quali sono i suoi valori quindi dopo la fase di attrazione è molto importante e avendo avendo notato i segnali di gradimento deve arrivare la fase di comfort la fase di comfort è quella di creare compatibilità similitudini trovare aree di compatibilità similitudini favorisce il comfort favorisce il coinvolgimento condividere interessi valori obiettivi comuni crea un legame più profondo più significativo quindi è molto importante sviluppare questa questa parte molto importante svilupparla perché perché avrai la compatibilità e le similitudini sono veramente elementi importanti nelle relazioni umane nella seduzione perché favoriscono diciamo una maggiore comprensione reciproca una condivisione di interessi ma vanno a creare quelle salutiamo Roxy salutiamo Roxy Rosa ma vanno a creare quella che ma vanno a creare quella come possiamo dire ah ok l'ascolterò che vanno a creare quella connessione emotiva che è fondamentale per creare comfort per creare unione quindi interessi comuni avere interessi simili o condivisi quindi ricalca i suoi interessi può comunque facilitare la condivisione di esperienze di attività ad esempio se due persone sono appassionate che ne so di qualche cosa quindi questo è fondamentale i valori e le convinzioni cioè la condivisione di valori di convinzioni può fornire la base tra l'altro lei la percepirà come la base di una relazione sana di una relazione donatura duratura quindi condividere diciamo visioni del mondo simili contribuisce a una maggiore comprensione reciproca e contribuisce sicuramente a una maggiore coerenza fondamentalmente nei rapporti avere obiettivi di vita simili anche questo crea comfort crea condivisione ad esempio diciamo l'obiettivo di vita può essere avere figli non avere figli avere obiettivi di un certo tipo insomma i valori sono fondamentali anche lo stile di vita quindi è ovvio che tu non è che devi fingere diciamo devi cercare di utilizzare ad esempio in questa fase la comunicazione ipnotica di Milton Erickson che dà possibilità di non fingere ma di creare comunque una connessione anche una connessione importante quindi la compatibilità nello stile di vita può comprendere ad esempio anche abitudini quotidiane preferenze insomma sono tutte cose che sono molto utili ma anche anche la personalità è ovvio che come dire da questo punto di vista chi si somiglia si piglia mentre nell'attrazione come dire anche gli opposti si attraggono mentre invece chi si somiglia si piglia è quello che possiamo dire nella nella seduzione questo è un punto è un punto molto molto importante sono punti fondamentali si può chiedere anche in chat beh anche in chat si può chiedere certo anche in chat interagendo in chat puoi capire facendo delle domande aperte e appena capti qualcosa che per lei può essere utile puoi andare a ricalcarlo fondamentalmente ecco che una volta che hai fatto questo ma non ci vuole molto tempo tu riesci a fare tutto questo in poco tempo e quando è che capisci quando è che capisci che questa fase è conclusa quando lei farà delle domande a te quando lei inizierà a chiederti che cosa pensi di questo che cosa pensi di quello quando lei si dimostrerà interessata a te allora hai concluso la fase di comfort allora ti suggerisco una cosa che è fondamentale per la fase di chiusura per ad esempio avere avere il numero di telefono quando lei inizia a chiederti non so ma tu che cosa fai cosa ti piace eccetera a quel punto lì devi interrompere la conversazione crea un'interruzione di schema e le dici ah sì guarda mi piacerebbe parlarti di questo ma adesso ho un impegno devo andare o questo o quello guarda ci scambiamo un numero così poi ne riparliamo in un altro contesto in un altro momento questo nel modo fondamentale quindi appena hai creato comfort e lo capisci che lei ti sta chiedendo qualcosa ti sta dicendo qualcosa di sé insomma ti sta esprimendo ti sta chiedendo qualcosa di te tu interrompi la conversazione e le dici guarda ne riparliamo in un altro contesto in un altro momento adesso devo andare o da fare o un impegno scambiamoci il numero è praticamente chiedere anche spesso chi chiede perdente ma se tu chiedi il numero in questo diciamo in questo in questa fase praticamente e non dico che sia matematico il fatto di riuscire ad avere una chiusura quindi perché poi la fase del primo incontro dovrebbe stabilire un contatto no tu dovresti andartene via che lei sarà contenta di rivederti che lei sarà contenta di diciamo lasciarti un suo contatto e quindi è lì che devi chiudere ecco queste sono le fasi che ti suggerisco di mettere in atto sono molto utili ti suggerisco di mettere in atto proprio quando la persona la donna in questo caso è come possiamo dire hai creato comfort insomma bene bene metti un like metti un like iscriviti al canale attiva la campanella e mi raccomando abbonati abbonati dai un sostegno al canale abbonandoti clicca sul tastino col dollarino bene bene ciao a tutti e per questo video è tutto